Benvenuti a Laura Venezia. Il conto dei danni per i tre concerti di Laura Pausini in piazza San Marco supera i 20.000 euro, tanto sarà necessario per riparare la pavimentazione dai danni provocati dal palco. La stima è stata fatta dai tecnici durante i sopralluoghi che Comune, Soprintendenza e Vela hanno effettuato prima e dopo gli eventi. Forse l'alto volume della musica ha anche staccato alcuni intonaci tra la piazza e il bacino Orseolo. Di sicuro ci sono i danni ai masegni, di cui peraltro si era parlato da subito. Queste foto sono state ricevute dal presidente dell'associazione piazza San Marco Claudio Vernier, che le aveva postate su Facebook e soprattutto girate alla Soprintendenza. Vela ha comunque fatto sapere che il conto del restauro e della pulizia saranno a carico di chi ha causato il danno. Nel 1976 Paul McCartney fu il primo a tenere un grande concerto in piazza San Marco. Allora il peso del palco, trasportato e montato con camion e carri elevatori, aveva procurato danni alle rive e alla pavimentazione, aprendo un dibattito che alla soglia dei 50 anni potrebbe concludersi l'anno prossimo, quando Comune e Soprintendenza potrebbero arrivare al palco ideale per piazza San Marco, una struttura adatta alle sue esigenze che salvi i concerti e gli eventi e soprattutto, contemporaneamente, salvi l'integrità della piazza. Comune le piazza Mund � a garao delle tue parti E il ragù E l'anno prossimo Inverte Imprim AA